Il nostro progetto è un progetto che si occupa di servizi alle aziende, soprattutto servizi specializzati nel controllo, antittaccheggio, anche nella vigilanza, non armata, per le aziende e anche per le persone private. Quindi in questo senso qua siamo stati aiutati dal Comune nella vera formazione specializzata nella gestione di un'azienda del genere, il Comune, che ha dato la possibilità di essere formato presso l'azienda specializzata della Camera di Commercio, il Forma Per. Sia io sia il mio socio abbiamo avuto questa opportunità, ci hanno formato nella gestione dell'azienda, il progetto si è concluso, abbiamo presentato il progetto, è stato accettato e poi il Comune ha messo a disposizione le garanzie in modo che possiamo avere i fondi e i finanziamenti per avviare la nostra attività.